Un nuovo look per la storica sede di Altamura della Banca Popolare di Puglia e Basilicata con ambienti raffinati e funzionali. La filiale è stata inaugurata ieri, si presenta con una vera e propria grande piazza accogliente con diverse salette e angolo relax, sistemi innovativi di purificazione dell'aria, rimarcano la vocazione verde della banca con un design composto da pannelli di piante stabilizzate. La sede è stata, dicevamo, inaugurata ieri nel pieno rispetto delle norme anticovid alla presenza dei vertici dell'Istituto di Credito del Vescovo della Diocesi di Altamura Gravina, Monsignor Giovanni Ricchiuti, ma senza ospiti.